Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata speciale di curiosità a viventi, dedicata ad Halloween. Halloween, la festività anglosassone che si celebra la notte del 31 ottobre, è legata alla simbologia del mondo della morte e dell'occulto. Nella cultura popolare italiana, l'insetto che simboleggia per eccellenza il macabro è la sfinge testa di morto, o acero-antiatropo, sull'epidotero appartenente alla famiglia sfincide, diffusa in Eurasia e Africa. Caratteristica di questa falena è la strana macchia che si trova sulla parte superiore del torace e che vagamente ricorduntesca. Questa macchia ha fatto in modo che questa falena guadagnasse una reputazione negativa, ispirando associazioni con il mondo sovranaturale e con il maligno. Secondo numerose superstizioni, esse messaggera di guerra e pestilenza, portatrice di sfortuna, arreca gravi disgrazi e morte nella casa in cui vola. La simbologia negativa di questa farfalla come portatrice di morte è stata ampiamente utilizzata da artisti, scrittori e registi. Tra i tanti ricordiamo il racconto di Edgar Allan Poe, La Sfinge. Nella storia del cinema ha fatto la comparsa molte volte, come ad esempio nel film horror Il Mostro di Sangue, dove un entomologo folle crea un'enorme testa di morto ingrociandola con il DNA umano, fino ad ottenere una mostruosa creatura che si nutre di sangue e semina morte e panico. Oltre a questa macchia, questa sinistra falena possiede una caratteristica molto insolita per questo genere di insetti. Quando è disturbato e irritata, emette un suono stridulo ben udibile dall'orecchio umano e prodotto espellendo aria dalla sua spirotromba. Una curiosità, il nome scientifico di questa falena, Acherontia atropos, deriva da Acheronte, uno dei tre fiumi invernali, e da Atropo, una delle tre moire, colei che aveva il convito di recidere il filo della vita. Siamo giunti alla fine anche di questo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un like e iscrivetevi al canale cliccando qui dietro. Vi ricordo che potete seguirmi anche sul blog entomologando.it e sulla pagina Facebook. Un saluto a tutti da Ludovico Cataldi e le zucche di Halloween. Grazie a tutti.